Lo spettacolo ancora una volta non è mancato sui tavoli di Barletta, a garantirlo sono stati i protagonisti dei campionati italiani assoluti di Carambola a Trasponde, il prestigioso evento biliardistico organizzato dalla Fibis e dall'associazione sportiva SB Revival di Barletta, presieduta da Leonardo Straniero. Cinque i titoli tricolori assegnati, pronostico rispettato in pieno tra i più forti dello stivale, ad imporsi in un tabellone caratterizzato da un livello tecnico elevatissimo, quello di prima categoria, è stato come da previsione l'esperto Marco Zanetti. Il veterano Bolzanino, grazie al successo tenuto in finale sul siciliano Michele Notarrigo, ha conquistato addirittura il ventottesimo tricolore in carriera, numeri di eccellenza per il più forte d'Italia, capace nel corso del suo straordinario percorso agonistico di salire anche sul tetto d'Europa e del mondo nella specialità della Carabola Tresponde. Non sono mancate le soddisfazioni durante la Kermess dedicate ai campionati italiani anche per i colori pugliesi, merito del duo Tutto Andriese, composto da Michele Di Tacchio e Michele Matera, che si è classificato secondo nella prova a coppie. La sconfitta è arrivata solo nell'atto conclusivo contro Libero Picciano e Fabrizio Cortese. Il titolo juniores, nella competizione riservata agli Under 21, è andato invece al promettente Alessio Dagata, bravo a spuntarla in finale contro Emanuele Crescino. Gli altri successi nella rassegna andata in scena a Barletta, infine, sono stati assegnati al catanese Biagio Buzanca tra i seconda categoria e al sardo Antonio Rune, il tabellone di terza categoria. Il sipario è calato, ma ancora una volta il biliardo ha lasciato ricordi indelebili nella città della disfida.